Incidente mortale nel pomeriggio di domenica 6 novembre a San Zili di Aquilè in provincia di Udine dove una donna è stata investita in bicicletta morendo subito dopo. La vittima è Valda Folla, 75 anni, morta per le ferite riportate dopo essere stata investita da un'auto guidata dal parroco della cittadina Donadelchi Cabas che è stato soccorso in stato di shock. Lo schianto è avvenuto lungo la ex strada provinciale 8 tra Aquilea e Fiumicelle. Secondo una prima ricostruzione la vice e l'auto viaggiavano nella stessa direzione di marcia. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia locale che sono intervenuti sul posto insieme con i soccorritori del 118. Le condizioni della donna si sono rivelate immediatamente gravi e nonostante sul posto sia giunto anche un elissoccorso. La 75enne è stata dichiarata morta prima del trasporto in ospedale. La 75enne è stata dichiarata morta prima del trasporto in ospedale.